Continuano a rimanermi in testa le parole di sabato di Rino Gattuso, che era molto accurato sul tema. Ci tiene molto Rino che il Milan consideri Paolo Fonseca un allenatore che sa di calcio. Qui poi parleremo anche di Pocettino, cittista tunitense, e parleremo anche delle opinioni di due giornalisti, Marco Cattaneo e Riccardo Trevisani. Rino dice che se la squadra lo aiuta e se tutti si concentrano in maniera tosta, soprattutto Teo e Leao, il Milan è una squadra che può competere per lo Scudetto. Questo è il suo giudizio. Per cui che tutto questo debba passare attraverso una comprensione, una valorizzazione, un sostegno dell'allenatore è qualcosa che sta molto a cuore a Rino Gattuso. Io credo che il sostegno si debba dimostrare con i fatti. Non con le parole. Perché vedo anche molti giornalisti che ti dicono che il Milan deve ribadire la centralità dell'allenatore. Ma più che essere costantemente al fianco dell'allenatore e non metterlo in discussione come invece si fa all'esterno. Che cosa bisogna fare? Una conferenza stampa ufficiale, un comunicato ufficiale per ribadire la centralità dell'allenatore. Non si è mai visto e non si vedrà nemmeno nel caso del Milan che dal punto di vista mediatico è molto discreto, ha una sua linea, condivisibile o meno, ha una sua linea di attenzione ai fatti e non alle parole. Tutte queste discussioni naturalmente poi consentono all'esterno del Milan di approfittarsene un po'. Io penso che il nuovo CT statunitense Pochettino se ne sia approfittato un po' del dalli sul Milan e del battere sul Milan. Nel senso che dire che Pulisic nel club gioca troppo, francamente, ecco, io credo che sia un orgoglio per i club favorire con il rendimento e con la disponibilità la presenza dei propri giocatori nelle nazionali, perché è un orgoglio per i giocatori ed è un orgoglio per il club. Però adesso che una nazionale, io a volte, io sono abituato, ricordo in passato diversi allenatori, gli allenatori di club lamentarsi dell'utilizzo dei giocatori nelle nazionali. Credo anche che ne abbiano un minimo di facoltà e di possibilità. Adesso siamo che è l'allenatore di una nazionale che dice al club fallo giocare meno. Francamente, francamente, fa discutere, anche perché Pochettino è andato oltre. Perché ad Austin, nel Texas, gli Stati Uniti hanno battuto Panama, il primo gol è stato di Yunus Musa, suo assist di Pulisic, e Pochettino dice che Musa è un giocatore che ha bisogno di avere più fiducia, gli devono trovare un ruolo in cui lui giochi con più fiducia. Quindi non soltanto Pulisic gioca meno, ma anche Musa giochi di più e giochi nel suo ruolo, o in un ruolo che gli possa dare più e più fiducia. Per carità del cielo, va bene tutto, però anche meno, soprattutto perché è l'esordio di Pochettino con gli Stati Uniti, e Pulisic e Musa sono due punti di forza, due pilastri della nazionale americana. Se il buongiorno si vede dal mattino, speriamo poi che il Milan e il Mister facciano sempre meglio, così che magari dall'esterno se ne approfittino un po' meno. Ecco, mi viene da dire. Parla in una intervista al sito Super News, credo di aver capito, anche Marco Cattaneo, apprezzato giornalista dal taglio molto innovativo, molto alla mano di molti programmi sportivi. Marco Cattaneo dice appunto che il Milan sul campo è una squadra forte, una squadra qualitativamente in grado, tornano le parole di Rino Gattuso, di lottare per lo scudetto, ma a frenare il Milan sono questi episodi, gli episodi di Lazio-Milan, di Fiorentina-Milan, è l'opinione di Marco Cattaneo, e quindi episodi che determinano la necessità di intervenire a supporto e a tutela dell'allenatore. Cosa che peraltro tutte le volte che sono stati interrogati sui temi i dirigenti del Milan hanno fatto. Tanto che a volte nelle trasmissioni sono le frasi di sostegno di Ibra a Fonseca che vengono utilizzate contro Ibra, cioè a volte i mezzi di informazione dicono «Ah, guarda il Milan che dice belle cose di Fonseca» e si sganasciano da ridere. Altri invece al Milan deve dire più cose su Fonseca. Mettiamoci d'accordo, perché ho la sensazione che finché non mettiamo a posto risultati e continuità di risultati, qualsiasi cosa si faccia, come spesso accade al Milan, si sbaglia. Se ribadisci la centralità, accontenti, non accontenti. Vai nella direzione di alcune opinioni, se invece la ribadisci vai nella direzione di altre opinioni invece che ti contestano e ti criticano, per cui diventa abbastanza difficile. Come sempre, ficcante e originale Riccardo Trevisani, a cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha questa capacità innata e un talento di essere spiazzante, di non dire mai cose che hai già sentito, che è la cosa che io peraltro detesto di più, perché i luoghi comuni personalmente li detesto. Ne è nato uno su Fonseca in questa sosta. Ah, Fonseca ha la media punti peggiore di Giampaolo. È una balla clamorosa, è una sciocchezza devastante, perché se tu fai il paragone fra Fonseca e Giampaolo, devi paragonare i due allenatori nella competizione in cui entrambe gli allenatori hanno giocato, perché Giampaolo alla guida del Milan 2019-2020, nelle prime sette partite, aveva fatto solo campionato e non Champions League, e la Champions League sono più impegni, più rischi di sconfitte e anche impegni duri come quelli che ha avuto Fonseca. Per cui, Giampaolo, tu vuoi fare la media perché vuoi fare il titolo su Fonseca, questa è la verità, perché se tu fai la media Giampaolo campionato e la media Fonseca campionato, senza aver fatto nulla di trascendentale, ma Fonseca ha una media migliore di Giampaolo, perché Giampaolo ha fatto sette partite di campionato, nove punti, derby perso, Fonseca ha fatto sette partite di campionato, undici punti, derby vinto. Quindi mi sembra evidente che nel confronto sia meglio Fonseca. Però hanno messo in carico a Fonseca due partite che Giampaolo non aveva, quelle con Liverpool e Leverkusen, e allora va bene, avete vinto voi. Torniamo a Trevisani. Trevisani dice, qui me la vado a cercare perché entro su un terreno scomodissimo, perché arriveranno centinaia di commenti. Ha ragione Trevisani, perché il tema è Antonio Conte, che è un tema su cui i tifosi rossoneri, e rispetto molto questo evidentemente, ma anche Bealto sono molto sensibili. Trevisani dice, chi più spende meno spende, perché dice, il Napoli ha speso tantissimo e non ha ceduto Ozyman per finanziare la campagna acquisti di Conte, tu invece hai risparmiato sull'ingaggio di Fonseca, per oggi Conte è primo e tu sei in difficoltà. E questo è uno stato dell'arte, è una foto di quello che è accaduto fino ad oggi. Però poi bisogna vedere sempre, anche se qui riceverò 300.000 tonnellate di critiche, poi quello che succede dopo, perché Riccardo Trevisani si sofferma anche sulla continuità, dice poi le cose che fa Conte te le ritrovi nel tempo. Che per carità Antonio Conte è un allenatore solido, serio, bravo, importante, di grande personalità, di grande effetto, il suo Napoli funziona già come una macchina importante, su questo non c'è dubbio, su questo sono d'accordissimo. Però poi bisogna vedere anche che cosa succede dopo, perché ricordo quando lasciò la Juventus, Allegri ha torto a ragione e disse, ma insomma io qui ho trovato una squadra che aveva paura di giocare una singola partita in Champions League, invece poi Allegri ha portato quella squadra a fare due finali di Champions League. I Conti che ha lasciato all'Inter Antonio Conte, anche se i Conti non sono popolari qua, perché sennò sfocio nel cinismo e nell'affarismo, se parlo di sostenibilità calcistica, capisco benissimo che sia un tema che nessuno di voi gradisce, però poi però sui debiti dell'Inter si è polemizzato per tanti anni, da parte degli avversari noi compresi, e quei debiti sono nati in un certo periodo storico appartenente. Per cui poi bisogna vedere il dopo, bisogna vedere il dopo. Certamente ai noi Antonio Conte farà non bene, non benissimo, strabene al Napoli, poi però bisogna vedere sul lungo periodo, sul medio-lungo periodo e sulla continuità, e qui naturalmente non possiamo fare previsioni in questo momento. Ciao a tutti, a domani.